Provare a bissare la bella performance e possibilmente anche il risultato dell'esordio. La Magnolia Campobasso ha ben chiaro il traguardo in vista della sua prima uscita interna della stagione che vedrà i fiori d'acciaio domani pomeriggio andare ad ospitare sul parquet dell'arena la Oxygen Roma. Il quintetto dell'Urbe, ultimo arrivato in ordine cronologico al gran ballo della 1, ha dalla sua un primo quintetto di assoluto spessore ed anche una panchina molto lunga e può contare sulle strategie di un tecnico di assoluto spessore come Vincenzo Di Meglio sino alla passata stagione assistant coach tra i fiori d'acciaio. Dalla sua il trainer delle Campobassane Mimo Sabatelli ha avuto l'opportunità di vivere una settimana di lavoro particolarmente proficua senza particolari intoppi con tutte e quindici gli elementi dell'organico pronti a rispondere presente per formare le dodici che poi saranno inserite a referto. Per il coach rosso-blu fondamentali saranno il lavoro in difesa ed il sostegno dei tifosi per dare ancora più animo al gruppo con palla a due domani sera alle ore 18 a dirigere il match tra Campobassane e Capitoline saranno il fiorentino Attard, il partenopeo Di Martino e la faentina Bettini. Grazie per la visione!